ciao in questi giorni ho pensato molto a te e mi sono domandato come potevo aiutarti a costruire il tuo magico paese lo faremo grazie all'aiuto di attori animatori e cantanti e poi ancora i produttori tutti i giorni su questa pagina facebook potremo costruire insieme dei contenuti e soprattutto poter ascoltare della buona musica delle belle storie delle fiabe e capire come si degusta un buon vino o si può realizzare una buona ricetta insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter costruire insieme a te il tuo magico paese